e allora dove siamo? l'alice è qua? andiamo a vedere gli animali dentro con la macchina e tu sei qua nella guida? si e quella è la mia adesso c'è un po' di coda, adesso entriamo eh? si dove siamo quindi? a verona? a verona parco natura? natura vive brava e vediamo anche gli animali vivi? vivi? intorno alla macchina torna alla macchina che ti vengono la, si ciao ciao eccoci, quasi che stiamo per entrare, vero? allora ragazzi posso dire una cosa? l'alice è guidata fino adesso? si però? laudina, vediamo? si, si stai bene e ragazzi? vediamo, facciamo vedere davanti che abbiamo aspetta, primo animale questo ma sarà la tilbi? si, li vedo, li vedo, li vedo, li vedo la mistruzza, si ho visto la mistruzza madonna come che gambe che sta con il zampino una zebra, questa che bella è la zebra? si due zebre due zebre si, le vedo guarda quanta caca fanno, per esempio guarda quanti l'alfieno e la locca la locca l'oceronte è un'oceronte che ci vuole seguire bellissimo bellissimo altro che bello questo è un l'eroceronte che ti sporca la macchina guarda che pisellone è bellissimo è bellissimo è bellissimo una via l'altra via ok, coda ehi, ciao ehi, ciao piccola piccola questa è l'altra questa che bella mamma, guarda, si sta muovendo l'altra è bellissima Sì. Cos'hanno sopra? Si stanno spellando tipo. Mani carnivori, entriamo dentro. Sì, vorrei stare dentro Jurassic Park quando ti mandano... Si. E ora lì c'è? Si, cancello. Dai, la poni a mangiare. Qui lì dormono. Si. Si stia a che tome virgule a me la c'è. No, non c'è coda. Andiamo a mangiare? Sì. Ecco, la mamma. Papà, ma qui è bellissimo, guarda. Bellissimo? Dai che andiamo. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Ciao Ho un bambino Hai visto che Ce ne sono due Ma c'è un cucciolino o uno? Sì, no, ma guarda, questo è il quattro Bene, come è sempre? Da settembre a marzo Picchini Eh sì, sono andati magari a marzo, hanno due mesi Sono in una marsupia Sì, non si deve mangiare Ma perché stiamo facendo il giro? Ma perché stiamo facendo il giro? Siete servitori In Italia, non ricordi E c'è il cuore Qua la mattina è inizia Alla prossima Alla prossima È l'attacco Perciò Alla prossima Un'altra prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.